Sono andate bene le donne candidate alle elezioni comunali. Il sindaco riconfermato per Luigi Biondi lo ha detto subito, abbiamo anche una buona rappresentanza di donne nel Consiglio Comunale. La più votata in assoluto è stata Laura Cucchiarella della Lega, già consigliere comunale. Alla sua prima esperienza invece Katia Persichetti, forte delle ossa fatta in circoscrizione a Sassa anni fa, che ha avuto una buona affermazione con Fratelli d'Italia, la più votata delle donne ed è una new entry, completa nel quadro Ersilia Lancia che sedeva già in Consiglio, come pure Silvia D'Angelo, sempre in Fratelli d'Italia. New entry anche Laura Cococcetta di L'Aquila Futura, riconfermata l'assessore uscente di Forza Italia Maria Luisa Ianni nel PD, oltre a Stefania Pezzopane entra in Consiglio Eva Fascetti, ma per il centrosinistra in new entry anche Simona Giannangeli con L'Aquila Coraggiosa. Per il passo possibile Ersia in Consiglio Emanuela Iorio. Voglio ringraziare i 652 votanti che hanno dato fiducia a me in questa tornata elettorale, dandomi fiducia nella mia prima esperienza di rilievo nell'amministrazione. Io sono già stata consigliere di circoscrizione svariati anni fa e quindi ho a cuore i temi che riguardano soprattutto le frazioni. Mi accingo ad affrontare questa esperienza con responsabilità e con dedizione, sperando ecco di riuscire a fare un buon lavoro insieme a chi già da anni ha fatto questo percorso e quindi a stare a fianco a coloro che ne sanno anche più di me. Ecco, mi confronterò continuamente con loro e metterò a disposizione tutto quello che ho nel mio bagaglio personale. Uno dei temi che secondo me merita molta attenzione è il sociale, per il quale io cercherò di metterci tutto l'impegno possibile. Grazie innanzitutto a tutti i miei elettori, io non ho fatto ancora comunicazioni sui social, comunque ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto. Il mio impegno, come già detto in campagna elettorale, sarà quello di rappresentare le donne, quindi le fragilità del mondo femminile, la sanità che è il mio impegno quotidiano professionale e farò un'opposizione in linea con quella che faranno anche i miei compagni di partito, costruttiva, non distruttiva, quindi abbiamo tutte le intenzioni di collaborare con il governo della città per i migliori risultati, quindi vigileremo dove ci sarà magari qualcosa non in linea con i nostri pensieri, però sicuramente opposizione costruttiva.